Si sono insediati da 24 ore i due nuovi assessori dell'Aggiunta Gambino e già sono alle prese con le criticità degli assessorati che gli sono stati affidati. Se da un lato allo sport Fabio Caracausi deve risolvere con urgenza il problema della piscina comunale chiusa dopo l'affidamento al vincitore della gara, c'è anche il Tomaselli che ha un problema di manterboso che non arriva. Marcella Natale, assessora alla cultura, ha da stilare in tempi brevi il programma per la stagione teatrale del Regina Margherita. Fortemente ritardo se si considera che ci sono teatri come il Pirandello di Agrigento per la direzione artistica di Sebastiano Lomonaco che presenteranno la stagione il 20 settembre. Ma più vicino a noi le due stagioni del Rosso di San Secondo sono già da tempo in campagna abbonamenti e pare che stiano facendo il pienone. Dunque chi resterà per il Margherita? In conferenza stampa l'assessore Natale ha ribadito che la sua scelta sarà un teatro che deve avvicinare i gusti di tutti e ha fatto l'esempio degli spettacoli del premio teatrale Michele Abbate, quindi pare sia orientata per un teatro più popolare. La scelta della stagione rispecchia la linea politica dell'amministrazione, l'idea di città che ha il sindaco e l'aggiunta. C'è inoltre il problema della gestione del Margherita Struttura. Saranno dati in esternalizzazione i servizi essenziali o addirittura, come aveva preventivato l'ex assessore alla cultura Marcello Frangiamone, tutto il pacchetto teatro con stagione pronta da parte di un'agenzia chiave in mano. Se così fosse non ci sarebbe ragione di dare il compenso al direttore artistico. Mario Incudine ancora non ha risposto, ma pare che ci sia un problema serio di budget. Incudine è abituato a gestire somme importanti come i 250 mila euro della stagione del Garibaldi di Enna fino allo scorso anno. L'assessore Fabio Caraccausi, fra un paio di settimane, intanto darà il risponso alla città sui tempi e modi di riapertura della piscina comunale, mentre il problema del manto erboso del Tomaselli è una storia più complicata, probabilmente destinata a non avere un lieto fine.